Ciao amici, magari quando dovete fare una passeggiata e poi dovete tornare, mi raccomando dovete lavarvi le mani e mentre lavatevi le mani dovete contare fino a 20 e dovete anche sfregare sul palmo della mano e sul dorso della mano. Ciao! Ciao a tutti, quando tannutite, coprite il naso e la bocca così o se no con il gonto. Ciao! Ciao a tutte ragazze, vi devo dire una cosa molto importante, non toccatevi la bocca con le mani sporche. Ciao! Ciao bambini, se avete sintomi dell'influenza, tosse, febbre e raffreddore, non andate al pronto soccorso ma chiamate il vostro dottore. Ciao! Ciao a tutti, non vi dovete toccare gli occhi con le mani sporche, assolutamente, vi dovete lavare molto bene le mani. Ciao a tutti, non toccatevi gli occhi. Ciao bambini, vi volevo dire una cosa importante, mani nel nadino. Nonno, ciao! Ciao amici, è meglio evitare i posti affollati perché, tipo, quando siamo in metropolitana, può essere che c'è qualcuno che ha la febbre, delle malattie e anche questo virus. Quindi è meglio evitare tutti i posti affollati. Ciao a tutti, c'è un'emergenza che si chiama coronavirus. È difficile per gli anziani perché per loro è molto pericoloso, ma non c'è problema. Bisogna stare lontani di un metro. E come si fa? Incontrate un amico e ognuno di voi fa due passi, ve lo dimostro. Uno e due e l'altro fa uno e due. E così potete far tutti insieme, stando sempre lontani di due passi per ciascuno. Ciao! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!